Prosegue la marcia di avvicinamento alla realizzazione del tunnel che sarà il cuore del collegamento viario tra Passo San Giovanni e la zona del Cretaccio. L'opera è strutturata su più interventi e mentre per il primo, ovvero l'adeguamento di via Sant'Isidoro che collegherà San Giorgio alla rotatoria delle Grazie, si attende la proclamazione della ditta vincitrice e della gara d'appalto, per il tunnel vero e proprio è stato depositato il progetto definitivo e proprio in questi giorni gli uffici provinciali hanno assunto una serie di provvedimenti per finanziare e realizzare alcune indagini tecniche e geologiche propedeutiche all'intervento. In totale si tratta di quattro interventi per un ammontare complessivo di 163.000 euro. Il tunnel del bypass di Nago ha uno sviluppo complessivo di 2.791 metri. Dopo un'ampia curva con raggio di curvatura di circa 530 metri, subito dopo l'ingresso nell'ammasso roccioso al passo San Giovanni, l'andamento planimetrico è quasi rettilineo sino all'imbocco con la mazza. La galleria naturale e quella artificiale hanno piattaforma costituita da due corsie di marcia da 3,75 metri nelle due direzioni e da una corsia aggiuntiva.